Con il numero 1 Marco! Con il numero 5 Guidi! Con il numero 8, con il numero 10, Guidi! Con il numero 11, Guidi! Con il numero 15, Guidi! Con il numero 18, Guidi! Con il numero 19, Guidi! Con il numero 76, Guidi! Con il numero 49, Guidi! Guidi! Con il numero 22, Guidi! Alessandro Rappo L'unico numero 16 Macchie Con il buono 22 Antonio Colge Il numero 60 Rosso Stefusa E il carico numero 92 Stefano Alessandro Rappo Alessandro Rappo Alessandro Rappo Arbitrani Contro Massimiliano Assistenzi Giallo Pimini E Cis Benvenuti E da casa Dalla E ora vediamo insieme Leggezza dei nostri campioni Che hanno fatto la storia Negli ultimi 15 anni E alla fine della partita Buona materia Perché è il campione Grazie Grazie